Quello che la gente non vuoi capire è che i cervelli umani sono una specialità, certo bisogna pure saperle cucinare Mi dà due etti di cervello di avvocato? Ottima scelta, questa è un penalista di Messino, ottantenne, colpo secco alla fronte diretto, estrazione veloce Sentirà che specialità è una sciccheria, sono 4,50 euro Poi mi dà un etto e mezzo di cervello di ingegnere navale Perfetto, ho questo qua che è freschissimo Certo ci è voluta svuotare la calotta granica pure perché l'ingegnere non era d'accordo È un zucchero, questi sono 3,80 euro E poi mi dà mezzo etto di cervello di negazionista, questo Non ho capito, scusa, ripeti un po' Cervello di negazionista Ma è sicuro? Sì 146,80 Va bene, famo 145 Due etti di avvocato 4,50 euro Quello di ingegnere navale 3,80 euro E mezzo etto di negazionista 145 euro Ma giovi no Io per sto mezzo etto di cervello di negazionista Ho dovuto fare una strage